Anche dopo le bocciature dei giorni scorsi il Comune di Pescara e il Sindaco Carlo Masci, ma anche in sinergia con il Comune di Montesilvano, punta fortemente affinché la filovia resti sul tracciato originale e che diventi realtà. Allora intanto chiariamo l'aspetto giudiziario. È stato impugnato un atto tra il Ministero e la tua in cui il Comune di Pescara è estraneo e ovviamente quell'atto è stato sospeso dal Tar di Pescara e c'è il diritto dei soggetti che si ritengono lesi di poter fare l'impugnativa al Consiglio di Stato. Perché gli avvocati ovviamente hanno sottolineato le lacune di quel provvedimento, però il tema è legato alla possibilità di avere in questo territorio Pescara, Montesilvano, Francavilla, Spoltore, di un sistema di trasporto pubblico elettrico a zero emissioni di CO2, quindi a zero impatto ambientale. Le associazioni che dicono di no, che vogliono o non vogliono questo tracciato? Ma ognuno difende i propri interessi. L'amministrazione guarda l'interesse di tutti, l'interesse generale. Il sindaco e il sindaco di tutti i cittadini non si può soffermare su un aspetto puntuale che riguarda casomai due chilometri di strada. Il discorso è 100.000 macchine che entrano a Pescara, 40.000 che entrano a Montesilvano, lo smog che attanaglia questa città, l'alleggerimento del traffico veicolare privato, un sistema di mobilità alternativo che tenga conto di tutti gli utenti del traffico. Non ci illudiamo, non ci illudiamo che il mezzo pubblico che passa su Via Le Boche, in mezzo alle altre macchine, o sulla riviera in mezzo alle altre macchine, possa essere competitivo. Aggiungo, io vorrei che tutti quelli che dicono che sulla strada parco non ci deve passare il bus elettrico, si facessero alle 8 della mattina il percorso Montesilvano-Pescara con l'autobus come attualmente. capirebbero tutti che non è possibile, che dobbiamo muoverci su un percorso dedicato. Noi stiamo lavorando su questo perché ragioniamo in termini di transizione ecologica.